Accompagnato dalla gentile signora Francesca Chiappetta, sono altresì presenti le seguenti autorità lionistiche e civili che vi pregherei di accumunare un unico applauso al termine della mia elencazione. Il senatore della Repubblica Lions in sede Raffaele Maltone, il senatore della Repubblica Lions Francesco Urraro, il sindaco della città di Nona in sede Ingegner Gaetano Minieri, l'immediato pasto governatore Paolo Gattola, il pasto governatore distrettuali Vittorio Del Vecchio, il segretario distrettuale Francesco Calà, il tesoriere distrettuale Luigi Suriano, il cerimoniere distrettuale Lucia Clausine e la persona di chi vi parla, Il coordinatore distrettuale GLT Luigi Mirone, il coordinatore distrettuale GST Felice Raso Costabile, il presidente della seconda circoscrizione in sede Mariano Lebbro, la presidente della terza circoscrizione Paola Capobianco, i presidenti di zona, zona 4 in sede Salvatore Napolitano, zona 3 Federico Totaro, il coordinatore di dipartimento Gianfranco Ucci. I responsabili distrettuali dei service e officer distrettuali Giuseppe Barbato, Pasquale Bruscino, Andrea Castaldo, Lea D'Agostino, Rosanna Napolitano, Vittoria Panarese, Ruggero Sabato, Anna Maria Silvestro, Luciano Stanzione. I responsabili di circoscrizione Grazie a tutti i seguenti club service, Chief Nola, Fidapa Nola, Archeo Club Nola, Mirides, Prologo Nola e Prologo Cesare Augusto, Associazione Nola Città dei G.